che creche che creche che creche e un ciao ciao a tutti belli e brutti passate del mese 112 numero 1 20 talap amici dell'ungheria c'è un luco che vede un coniglietto laggiù c'è un bel coniglietto da mangiare cavolo si sta avvicinando il lupo devo pensare a qualcosa ah che buon lupo che mi sono mangiato miam 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 ma ancora fame un coniglio che mangi lupi meglio andarsene dopo un po sopra un albero un uccellino ho visto tutta la scena dall'albero il coniglio ti ha fregato non ha mangiato nessun lupo perbacco allora me lo divoro seguimi ti porto io da lui oh no il lupo e l'uccellino stanno vedendo verso di me quel uccellaccio deve aver fatto la spia devo far venire un'idea subito ma come sarà finito quel uccellaccio è più di un'ora che l'ho mandato a cercare un altro lupo e ancora non arriva aff 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 ass 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 Grazie a tutti.